cara testa fiorite buongiorno buon venerdì bentornati alla rubrica video che oggi è dedicata ad un autore un attore grandissimo italiano che ha compiuto 100 anni qualche giorno fa il 18 giugno sto parlando di attilio cassinelli allora alzi la mano chi a casa da adulto non ha o da bambino non ha un libro di attilio io ho tirato fuori per l'occasione questo domino che avevo quando ero piccolina e che mi ha accompagnato in tutti i miei traslochi ho verificato che fosse suo perché avevo la memoria proprio che fosse sua ma non ho più la scatola e invece i personaggi sono proprio loro per cui attilio è un autore che sicuramente mi ha accompagnato in tutti questi anni ed è un autore che in qualche modo per me è sempre stato presente in sottofondo in sordine insomma non ne ho mai parlato esplicitamente finora perché come dal come alcune come rodari come alcuni autori che proprio come dire sono le pietre miliardi non ci si rende conto o comunque non ci si lavora fino a quando c'è un'occasione particolare purtroppo io ho colto questa occasione che è l'occasione del centenario dalla nascita attilio continua a creare storie incredibilmente incredibilmente riesce a farlo con una freschezza pazzesca per bambini e bambine lettori elettrici molto piccoli e quindi andiamo un po a vedere qual è la caratteristica del suo lavoro lo riconoscete sicuramente tutti dalla firma molto molto riconoscibile dagli anni settanta in poi attilio è un autore a tutto tonno nel senso che ha illustrato testi di altri ha scritto testi propri e poi ha aperto questo filone che adesso andiamo anche a vedere di fiabe favole con cui probabilmente negli ultimi anni dal 2016 17 in poi da quando è pubblicato da lapis lo conosciamo più più facilmente nel senso che i libri di attilio adesso sono editi da lapis sono quelli che sicuramente abbiamo più tra le mani ma proviamo andare a vedere quali sono insomma qual è un po la caratteristica del suo tratto è un po anche la sua poetica perché a me interessa molto vedere anche nel tempo come si sviluppa purtroppo non ho tra le mani non posso farvi vedere alcuni libri delle delle edizioni degli anni settanta che uscirono per giunti anche per vedere un po come si è evoluto il tratto ma insomma partiamo da quello che c'è e poi se vi incuriosite insomma andrete ad approfondire allora la forse la parte che più si conosce del lavoro di attilio di questi ultimi anni sempre per lapis è quella delle fiabe favole e sono è una collana cartonata sono tanti libri di una collana cartonata dedicata ai più piccoli in cui però vengono raccolte tipologie di storie diverse perché appunto sono fiabe classiche come per esempio il lupo e sette capretti sono fiabe non classiche quelle autoriali quelle che sono rientrate che rientrano per noi nel canone delle fiabe classiche ma che non derivano dalla tradizione orale ma da una riscrittura d'autore come per esempio il pifferaio magico oppure arrivano le favole le favole in questo caso preso il leone il topo ma ne sono uscite diverse e di favole vi faccio presente anche il librone che racchiude esopo e fedro illustrandoli allora vediamo un po qual è la caratteristica che mi piace di più dal punto di vista della rielaborazione del contenuto di queste fiabe favole soprattutto rispetto alle fiabe perché per le favole va andrebbe fatto un ragionamento letterario diverso ma soprattutto rispetto alle fiabe la cosa che mi mi ha sempre colpito ne ho parlato credo nei video proprio sulle fiabe quello di tre porcellini e quello di cappuccetto rosso e cartiglio riuscito a renderle adatte nel senso proprio del tratto della della sintesi narrativa incredibile a lettori e lettrici molto molto piccoli ma senza mai edulcorare o tradire l'originale non c'è mai nessuna forma di edulcorazione in queste fiabe per cui lui riesce a essere assolutamente pacato diretto raccontando la fiaba per com'è ad altezza di bambini e bambine molto piccole a me questa cosa pare incredibile sia come volontà come scelta che sicuramente è quella giusta ma non è quella che solitamente si persegue sia come capacità di sintesi e di ricreazione del contenuto narrativo nelle favole questa cosa succede meno perché le favole hanno di per sé una struttura molto più lineare la morale esplicita e poi sono molto meno cruente delle delle fiabe che di solito vengono edulcorate proprio perché hanno degli elementi che vengono così addolciti e che invece sono proprio quelli che dovrebbero restare cruenti ovviamente in maniera adeguata all'età nella riproduzione in maniera adeguata all'età vorrei solo farvi notare come un pochino diverso il tratto di queste favole illustrate ok e di questa favola illustrata lo vedete che il segno è sempre lo stesso no però qui abbiamo c'è un bordo molto molto più rafforzato e c'è anche una rotondità più rafforzata in qualche modo e qui invece tutto un pochino più leggero ed assomiglia un po di più vedete al tratto di quando ero bambina io quindi degli anni 70 80 probabilmente dipende dal fatto che i libri dedicati alla primissima infanzia e quindi quelli che poi escono anche in formato cartonato via dicendo hanno questo rafforzamento del bordo che una delle componenti che spesso si riconosce non necessariamente ma spesso si riconosce come tipica di quelle iconografie che si riferiscono ad una fascia d'età per bambini libri per bambini piccoli piccoli piccolini piccolini perché rende il personaggio immediatamente riconoscibile perché stacca dal fondo peraltro tutti i fondi di lapis scusatemi tutti i fondi di attilio sono neutri sono tendenzialmente bianchi ma anche per esempio in questo libro che è uno dei suoi originali quindi non fiaba favola o test di altri illustrati ma scritto illustrato da lui comunque abbiamo il fondo neutro e anche lì dove non capita che ci sia il fondo neutro come per esempio in questo meraviglioso meglio insieme che è un libro senza parole lo recensito ve lo lascio nei commenti vedete che lo sfondo c'è perché necessariamente ci deve dare l'ambientazione narrativa ok ma non da nessun tipo di disturbo visivo ad un bambino piccolo che osserva la narrazione vi rimetto anche nei commenti le caratteristiche delle illustrazioni tipiche per i bambini molto piccoli bambini e le bambine molto piccole quindi probabilmente questa un po esasperazione del tratto della bordatura nera ma anche in qualche modo di geometrizzazione delle forme è dovuta diciamo a dove viene collocato il libro dal punto di vista del pensiero del lettore reale nella a quale fascia d'età appartiene ecco e infatti lo vediamo più esasperato come dicevo nei libri per esempio cartonati guardate anche in questo caso questo è fila 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 strocca di attilio è uno dei suoi libri originali per cui in cui lui fa sia la parte di scrittura che di illustrazione e sono fila strocche eccole qua sono anche scritte in maiuscolo può sempre essere interessante come informazione vedete che il tratto si riconosce molto ma è nell'illustrazione è molto meno schematizzata da un punto di vista così se scusate il termine schematizzato non è quello corretto ma è uno per capirci meno meno geometriche in qualche modo meno esasperate le sue forme ecco e i bordi sono a volte non sono nemmeno definiti vedete ma questo è sicuramente un libro per una fascia d'età un po più alta non perché la fila strocca non si possa leggere anche bambini molto piccoli ma perché se pensiamo a un bambino una bambina che maneggia questo libro in autonomia sicuramente saliamo un pochino d'età il fatto che sia scritto in maiuscolo aiuta anche per esempio una prima lettura autonoma se uno lo vuole pensare in questo modo mentre invece quando abbiamo in mano un libro come questo il testo sempre in maiuscolo ma il cartonato è un cartonato molto grosso e il tipo di vedete illustrazione è decisamente più più netto ecco più netto chiudo vado verso la chiusura con un libro che io adorato di attilio l'ho recensito l'altro giorno ve lo lascio nei commenti ed è leggo leggo è un libro in cui compaiono praticamente tutti i personaggi di attilio hanno tutti un nome ma io non me lo ricordo vi lascio nei commenti la pagina dove li trovate tutti ognuno legge in una modalità e per un motivo è una cosa diversa questo è una specie di albo catalogo in cui con una semplicità estrema portata appunto d'altezza di lettore elettrice piccolino c'è un intero trattato sulla lettura e sul piacere vero della lettura e piacere profondo quello che ci quello che che da che stimola il principio di piacere in senso in senso psicoanalitico non la piacevolezza della storia a volte sono anche storie che danno brividi guardate che meraviglia se la trovo quest'illustrazione di chi legge le avventure e il punto è che in questo caso viene ribadita innanzitutto vengono ribadite innanzitutto delle cose che noi spesso non diamo per sconte non diamo per assodate cioè che la lettura è anche ascolto per qualcuno resta ascolto tutta la vita non è che si legge non è un lettore ok forse non è un lettore autonomo ma sicuramente ascolta narrazioni nel caso dei bambini molto piccoli o piccoli fino a quando arriva la lettura autonoma ammesso sperando che arrivi la lettura ascoltata che poi corrisponde anche ad una contemporanea lettura delle immagini spesso se parliamo di albi illustrati è lettura a tutti gli effetti e poi quest'altra cosa qualche leggere le figure leggere le figure è leggere cioè decodificare un linguaggio perché la lettura è decodifica di un linguaggio e risposta agli stimoli che questo linguaggio decodificato ha prodotto sia stimoli cognitivi che stimoli e motivi via dicendo eccola qua l'ho trovata leggere racconti avventurosi che è rappresentato da questo gatto che legge sotto l'ombrello in cui di fatto c'è già la lettura e l'avventura della lettura quelle che ti portano talmente dentro sospendendo l'incredulità che non ti accorgi manco che sta piovendo e non ti ricordi di aprire l'ombrello oppure possiamo interpretarla in un altro modo in tantissimi altri modi il gatto che sta vivendo la sua avventura in questo modo i libri i grandi libri lasciano gli spazi per entrare dentro la narrazione al lettore anche quando riprendono in mano storie che conosciamo benissimo come nel caso appunto delle delle fiabe delle favole via dicendo qual è secondo me la grandezza di un autore come attilio quello di essere riuscito a fare quello che c'è che un grande autore sa a fare cioè diventare molto riconoscibile che è molto importante per bambini e bambine che si affidano alle narrazioni attilio non crea narrazioni seriali ma crea dei personaggi che tornano e quindi ci si affeziona a quella tipologia di illustrazione a cui personaggi che ritornano quindi non è una serialità però ha delle componenti di che tornano e sono quelle componenti che creano la fiducia da parte del lettore della lettrice nel ritrovare sempre qualcosa che ci è piaciuto ci affidiamo a quell'autore a quei personaggi perché ci hanno dato piacere una volta e siamo fiduciosi che lo facciano ancora d'altra parte il grande autore è riconoscibile a una poetica che possiamo ritrovare intatta mutatis nel tempo ma ci sorprende ogni volta perché non ripete non non è mai ridondante non c'è un libro di attilio uguale all'altro c'è una riproposta del suo stile ogni volta elaborato a partire da quella specifica storia e questa è la grande questo fanno i grandi autori restano riconoscibili mutando ogni volta che è una cosa difficilissima in lui si aggiunge un altro elemento che io trovo straordinario ovvero che rivolgendosi spesso a bambini e bambine piccoli o molto piccoli riesce a creare queste narrazioni di una semplicità estrema così come devono essere mai banali per me lui è fondamentale per spiegare la differenza durante i corsi per esempio tra semplicità che ciò a cui punta sempre il grande autore e la banalizzazione la banalizzazione la negazione del pensiero critico dell'interpretazione della letteratura invece la semplicità è la come dire il punto di arrivo massimo a cui si può arrivare che quello che più va bene per i nostri lettori elettrici piccole bene io qua mi fermo perché mi sono dilungata assai anche se sottile o potremmo stare molto tempo se avete voglia scrivetemi nei commenti che cosa che libri avete di attilio cosa vi piace di lui se vi piaceva da bambini e bambine o se piace i vostri figli alunni nipoti insomma quello che io intanto torno a recuperare il mio domino che sono così contenta di aver ritrovato e ci vediamo la settimana prossima con il nuovo video intanto buona settimana vi ricordo che ci leggiamo tutti i giorni su teste ferite se volete venire ad approfondire qualsiasi aspetto della letteratura per l'infanzia per esempio quello 03 ci sono i corsi di teste fiorite lab vi lascio tutto nei link come sempre alla prossima settimana ciao